Siamo qua stasera a Orza Scuola Vela, Monza. Avevo appena tenuto una conferenza sugli scuoli bianchi in Sudafrica. Con noi c'è stato anche Matteo Greselin, che è stato partecipante di una delle nostre spedizioni in Sudafrica per osservare gli scuoli bianchi, quel corso di biologia degli scuoli. Matteo, grazie di essere venuto alla mia spedizione, grazie di essere venuto stasera a presenziare la mia conferenza. Quali sono le tue impressioni sulla tua partecipazione alla spedizione in Sudafrica? Innanzitutto che comunque questa spedizione per me è stato realizzare un sogno che avevo fin da quando ero bambino, fin da quando avevo 5 anni, che è stata l'età nella quale mi sono messo con grande passione a studiare questo animale meraviglioso e mi sono appassionato a queste splendide creature. L'impressione che ho avuto è stata molto positiva, innanzitutto perché questa spedizione l'ho fatta con dei veri professionisti che lavorano in totale sicurezza e nel rispetto e nella sicurezza sia dei partecipanti, di coloro che si apprestano a entrare nella gabbia, e sia degli scuoli bianchi. Spesso e volentieri mi è stato detto da questo caro amico, dal professor De Maddalena, che questa spedizione mi avrebbe cambiato la vita. Beh, posso testimoniarlo. Questa spedizione è stata la cosa più bella alla quale abbia mai partecipato. Mi fa molto piacere che tu lo dica Matteo, veramente. E non ti ho pagato per dirlo, vero? Assolutamente no. Quindi puoi dire che l'esperienza anche di vedere lo scuolo bianco sott'acqua, di vederlo in gabbia, non ti ha deluso. Ha superato il tuo aspettativo? Assolutamente no. Ci siamo immersi, ci siamo immersi appunto con esemplari che sono stati molto, molto collaborativi. Uno dei più grossi era all'incirca di 4,60 metri, una femmina se non erro, se non sbaglio. E al di là di questo, al di là di tutto, al di là del vedere lo scuolo bianco nel suo ambiente naturale, che è un qualcosa di meraviglioso, che penso che nessun documentario del mondo, per quanto sofisticato, possa descrivere, il bello sono i corsi. Sono i corsi che vengono svolti in albergo quando si torna da tutte le uscite. Corsi specifici, corsi adatti e aperti a tutti e alla portata di tutti, con un linguaggio molto semplice, con un linguaggio appunto alla portata di chiunque, di ogni tipo di persona, di personalità. E anche il gruppo che si è creato, si è creato un gruppo molto affiatato. Hai la possibilità, se hai la possibilità in queste spedizioni, di essere in gruppo con altri appassionati di squali. Ed è un'esperienza meravigliosa. Un'esperienza quindi, possiamo dire, che va molto al di là della semplice esperienza turistica. Sì, esattamente. Proprio per questo. Diciamo questo, diciamo che un'esperienza turistica prevede questo. Prevede delle uscite molto più brevi, circa di tre ore e mezza, mentre noi eravamo in barca circa dalle sei alle sette ore. In quelle sei, sette ore tu hai la possibilità di vedere delle predazioni e delle possibilità appunto di immergerti in questa speciale gabbia in totale sicurezza. In totale sicurezza perché? Perché alcuni operatori hanno la brutta usanza. Operatori, sia chiaro che lavorano in maniera molto scorretta, di tenere innanzitutto l'esca troppo vicino alla gabbia. E quindi di creare un grave pericolo, più che altro per lo squalo. Loro, questo team di professionisti che è l'Apex Shark Expeditions, lavorano in totale sicurezza. Fanno come è norma, come è giusto, scorrere l'esca in maniera molto semplice. Scorrere l'esca a fianco alla gabbia. Non rivolta verso la gabbia, evitando che lo squalo sbatta contro la gabbia. Questa è la norma e questa è la norma appunto che si dovrebbe adottare. La finalità è in effetti dimostrare gli squali per quello che sono. Non per dire animali aggressivi, perché non sono animali aggressivi. Non per dei killer, perché non sono dei killer. Di farlo rispettando la sicurezza delle persone, portiamo in barca, in gabbia, ma anche e soprattutto facendo sì che gli animali non siano in nessuna maniera danneggiati, né fisicamente, né che vengano modificati al loro comportamento naturale. Grazie mille Matteo, grazie di essere stato con noi. Grazie a te. Grazie di essere venuto stasera per la nostra conferenza. Arrivederci. Vi saluto. A presto, vi aspettiamo.